ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast corriere c'è come al solito vi faremo compagnia per qualche minuto della vostra giornata e vi racconteremo le news più importanti dal mondo amichi e amici ciao a tutti e ciao a tutti benvenuti in questa nuova puntata del podcast firmato corriere c'è ciao a voi che ci state guardando in video ciao a voi che ci state ascoltando solamente come podcast praticamente su tutte le piattaforme possibili immaginabili lo avete letto dal titolo e visto dall'anteprima oggi vi parliamo di un argomento che ci sta particolarmente a cuore perché è un argomento fresco un argomento che tocca tantissimo il mondo del lavoro e soprattutto non soprattutto ma in buona parte anche il mondo giovanile prima di presentarvi però l'argomento di oggi presentarvi devo sempre recuperare quelle famose lezioni dalla logopedista in attesa insomma che passi questo famigerato mese di settembre io vado a salutare l'amico collega Andrea Caprarelli che ci dà una grossa mano dietro alle telecamere ciao Andrea e poi vado dall'altro lato della scrivania e qui mi fermo prendo un grande respiro carica la marchetta vado a salutare l'amico il collega l'altra voce l'altra penna di questo podcast colui che insieme ad Andrea tutto può tutto fa e tutto sa Guglielmo Ferrazzano quanto sei bravo ti sei esercitato tantissimo con queste marchettine così salve a tutti salve ragazzi anche a chi è dietro la telecamera e all'ansia ma poi faremo capire chi è perché esatto esatto perché qui nei nostri studi c'è già un ospite però e poi me lo mostreremo mi preoccupate state tranquilli allora in realtà quello che faccio io è un copio perciò c'ho il computer avanti perché c'ho scritto tutta la manfrina che faccio all'inizio ma comunque ritornando un attimino serie per voi che ci state seguendo da casa sia in video che in podcast ve lo ripeto avete letto questa cosa dall'anteprima del video di oggi noi oggi proveremo all'interno di questo podcast nel frattempo che io mi recupero tutto il materiale che ci siamo già precedentemente preparati con Guglielmo parleremo di un argomento abbastanza interessante cioè è stata stilata una sorta di classifica delle migliori aziende italiane nelle quali lavorare però andiamo procediamo per gradi cedo la parola a Guglielmo che si è studiato si è sviscerato tutta la faccenda come si deve e illuminaci un attimo perché le cose sono veramente molto interessanti allora c'è uno studio molto particolare dell'istituto del disco qualità e finanza fatto con il quotidiano italiano repubblica settore redazione affari e finanza e questo studio ci parla delle migliori aziende secondo questa classifica in cui lavorare per il biennio 2022-2023 è un studio particolare perché parte dal social listening cioè si prende in rassegna tutto il mondo dei social dei forum dedicati agli ambienti di lavoro i settori dove si vanno a inserire le recensioni video e quant'altro e si crea un database enorme di dati che sono poi passati in rassegna e filtrati attraverso dei criteri in questo studio ne sono stati analizzati 27 tra cui il clima di lavoro lo sviluppo professionale i valori aziendali la sostenibilità il materiale materiale viene raffinato e c'è una classifica finale che in base a un punteggio quindi si tratta di matematica elegge i migliori a seconda del settore le migliori aziende in cui secondo il social listening è bene lavorare o comunque ci si trova molto bene si è più appagati sul posto di lavoro esatto quindi su 2000 aziende prese in considerazione solo 400 sono venute fuori vive sane e salve da questa classifica e ad ogni settore c'è quella che ha vinto praticamente e inoltre questo istituto tedesco conferisce alle migliori aziende un bollino che può essere utilizzato come bollino di qualità nelle campagne di marketing o di presentazione dei nuovi brand e lo studio completo lo troviamo su internet nell'inserto di affari a finanza di repubblica noi vi riportiamo solo a titolo informativo 10 settori e le relative 10 prime aziende in cui ripetiamo secondo i dati emersi dai social si lavora bene si sta bene è ovvio che poi ognuno di noi ha le proprie aspirazioni i propri valori e che siccome queste aziende sono molto grandi e quindi ci sono varie sedi l'esperienza è estremamente soggettiva quindi in questa sede prendiamo i dati per quello che sono esatto diciamo ricordiamola questa cosa insomma le classifiche molto spesso lasciano il tempo che trovano in generale i criteri di valutazione sono stati espressi infatti adesso Cuglielmo ce lo racconterà insomma sono stati utilizzati tutta una serie di criteri specifici un numero specifico di criteri però bisogna sempre tener presente che poi l'esperienza singola personale di ogni singolo dipendente slash datore di lavoro è comunque diversa dai diversi contesti quindi dall'ambiente lavorativo dal posto in cui si trova collocata la sede di una determinata azienda quindi insomma sono i classici discorsi che vanno presi comunque non con le pinze ma vanno contestualizzati in maniera corretta allora classifica nel settore alberghi e star hotels quindi noi citiamo direttamente l'azienda che ha avuto il punteggio 100 quindi matematica pura disclaimer non lo so repubblica ma noi non siamo pagati da nessuna di queste aziende assolutamente veramente parte non pagate abbiamo preso il giornale abbiamo studiato esatto riportiamo una classifica elaborata dall'istituto quindi che confluisce nel lavoro che si chiama italy's best employers 2022 2023 quindi dati pubblici diciamolo insomma per no anche perché se ci avessero pagato ognuno di loro non staremo qui praticamente per questione di correttezza ve lo diciamo allora nel settore alberghi abbiamo star hotels perdonate la pronuncia poi abbiamo intrattenimento e cultura fc internazionale milano nella ristorazione italy o e italy non saprei pronunciare italy italy ristorazione da viaggio e fast food mcdonald's viaggi e vacanze msc crociere nel settore dell'e commerce amazon automobili e veicoli ferrari tecnologia e hardware samsung elettronix nel dolciario ferrero e nella multiproduzione barilla se voi prendete l'intera classifica ci sono tutte 400 le aziende perché per ogni settore c'è l'azienda leader e poi anche le altre che meritano ovviamente un'analisi noi giusto vi diamo qualche informazione così però andatele a passare il rassegno questo può essere utile perché magari una persona vuole applicare il proprio curriculum fare domanda e si può informare sul lavoro in sede chiedere informazioni ma è sempre poi l'esperienza personale che fa la differenza che fa la differenza la fa da padrona e quindi questo è per il momento sicuramente questo lavoro ha ricevuto le influenze del periodo pandemico sicuramente questi e non è la prima volta che si che costruisce questa classifica quindi l'anno prossimo ma sarà curioso vedere come aggiorneranno non solo questa classifica ma anche altre alla luce dei vari problemi lo coronavirus il conflitto in ucraina insomma come il panorama aziendale subirà o non subirà il colpo ripetiamo queste sono 2000 aziende prese in analisi al termine della ricerca al termine della scrematura 400 ne sono state prese in considerazione perfetto allora voglio io ti ringrazio perché oggi ci siamo mantenuti veramente in tempi molto stretti sono contento di questa cosa perché abbiamo raccontato una notizia secondo me importante per i giovani per mondo per il mondo del lavoro in generale in poco tempo spero che abbiate apprezzato pure voi la narrazione di oggi questa narrazione dei fatti di oggi vi ricordiamo che tutte le informazioni che vi abbiamo raccontato sono tratte dai canali ufficiali cartacei e online di repubblica quindi per qualsiasi cosa qualsiasi approfondimento potete fare tranquillamente riferimento ai canali ufficiali di repubblica detto questo io come al solito ti ringrazio perché ti sei sviscerato l'articolo ti sei fatto questi 15 16 minuti di lettura dell'articolo ogni tanto per aver giusto sì ogni conoscendoti giusto ogni tanto ringrazio chi invece da oltre 15 16 minuti detta i tempi del video di questi podcast quindi grazie ad andrea caprarelli che per favore andrea si mostri non si vuole non si vuole mostrare non troppo non va bene no io ce l'ho provato ad allietarvi la giornata voi che siete in video a far mostrarvi il bel vicino di andrea caprarelli ma oggi andrea vuole fare il timido quindi lo ringrazio solamente a voce grazie a voi che ci avete seguito da casa vi ricordo se a questo punto andrea mi mette in sovraimpressione la nostra mail se avete delle storie da raccontarci potete scriverci alla mail che vedete qui sotto podcast chiocciola correrece punto it scriveteci noi leggiamo la mail se ci sono delle storie interessanti proveremo a raccontarle qui all'interno dei nostri podcast grazie ancora a voi tutti che ci avete visto su instagram facebook youtube che ci avete ascoltato come podcast su tutte le piattaforme possibili immaginabili e noi ci rivediamo a una prossima puntata del podcast firmato come al solito correrece ciao a tutte a tutti ciao a tutti ciao a tutti